Allora, Memoli e Grasso, Mattia e Maurizio. Partiamo da Maurizio. Allora Maurizio, intanto volevo dirti che con i chilometri che hai percorso oggi saresti arrivato più o meno ad Alassio, siamo d'accordo? Non so neanche dove si trova ad Alassio. In Liguria, a casa loro. Va bene. Sì, effettivamente, che oggi abbiamo corso tanto tutti, non solo io. Però non è bastato perché, come ci siamo detti prima, siamo partiti un po' in sordina, abbiamo preso tre gol, così, e dopo recuperare è dura. Dura, poi loro sono stati bravi perché hanno comunque ammazzato il gioco. Complimenti anche a loro, anche se noi per l'ennesima volta, come con la Vastese, la prima partita, siamo partiti con un handicap importante. Abbiamo capito dove dovete migliorare, l'approccio alla gara. È successo con la Vastese, è successo oggi a Genova. E a proposito di approccio alla gara, invece voi, l'approccio alla gara, il vostro è stato bruciante, 3-0 in pochi minuti. Il ritorno della Romagna, che è una squadra molto forte, hanno raccolto meno, secondo me, di quello che potevano fare. Però voi, bene? Sì, molto bene. Penso che entrambe le squadre, se noi con la Romagna, avremmo meritato magari un piazzamento migliore. Eravamo molto scottati dalla prima partita con l'Udinese, che ci ha tagliato le gambe e il morale. Siamo riusciti a ripartire ieri con una partita molto sofferta. Oggi siamo partiti bene, poi abbiamo comunque accusato il loro ritorno. Però alla fine, dai, penso che sia una bella vittoria, il coronamento di una stagione importante. Si poteva forse fare qualcosa di più, però per essere il secondo anno abbiamo migliorato il piazzamento dell'anno scorso, quindi tutto è di guadagnato. Io volevo chiedere, per concludere, se c'è un museo per i mezzi di locomozione, io ci porterei. Maurizio Grasso, fategli un calco e mettetelo là. Se c'è un museo ortopedico a Genova, prendetevi il sinistro di questo signore qua, che è una cosa pazzesca. Il Super 8 per Genova e per la Romagna si chiude qua, è stato un grande Super 8. Vi salutiamo insieme? Ma sì, salutiamolo insieme. Ciao ragazzi! Ciao ciao!